Svolta nell'assalto al portavalori sull'A14, 12 gli indagati tra Pescara e Foggia. Era il 7 luglio del 2023 quando il portavalori della società Aquila di Ortona fu attaccato da una banda ben organizzata creando terrore lungo l'autostrada A14. Sono 12 gli indagati tra Pescara e Foggia. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Centro nell'articolo di Maurizio Cirillo. Panico tra gli automobilisti e soprattutto per i due uomini, scrive Cirillo, dentro il furgone contro il quale vennero sparati più di 30 colpi di Kalashnikov. Sott'accusa da parte dei magistrati Anna Benigni e Andrea Papelia che seguono l'inchiesta, sono finiti due abruzzesi e dieci pugliesi che materialmente avrebbero partecipato alla rapina andata poi a vuoto per il tempestivo arrivo della polizia stradale che costrinse la banda a fuggire quando erano ormai riusciti ad aprire un varco nel furgone per portare via i circa 300.000 euro che vi erano custoditi. La procura di Pescara, grazie alle indagini della squadra mobile del dirigente Gianluca di Frischia, nei giorni ha organizzato perquisizioni a tappeto in tutti i luoghi nella disponibilità degli indagati. A Pescara affoggia anche attraverso la squadra mobile locale che sin dall'inizio sta collaborando con i colleghi di Pescara. Grazie a preziose testimonianze dei residenti, gli inquirenti sono arrivati alla individuazione dei due che risiedono a Montesilvano, uno proprietario dell'immobile, 58 anni, originario di città Sant'Angelo e l'altro inquilino di 60 anni, nato nel Terramano. Tutto questo anche grazie a una serie di telecamere. I magistrati hanno ricostruito, scrive sempre Cirillo sul centro, tutte le fasi dell'assalto, da quando le due auto rubate a Foggia utilizzate dai malviventi costrinsero degli automobilisti a ostruire con le proprie auto fino a quando i banditi a bordo delle auto rubate affiancarono prima il blindato, sparando raffiche di mitra e poi lo bloccarono superando la resistenza delle due guardie che vi erano dentro, costretti ad uscire per non restare soffocate dopo che i banditi avevano infilato la manichetta di un estintore nell'abitacolo dopo aver praticato un'apertura con una moto troncatrice. Quando erano un passo dal portare a termine il colpo, i banditi dovettero però resistere perché la polizia era ormai sul posto. Il furgone bianco usato per la fuga venne riconosciuto da un agricoltore che stava lavorando i campi lungo la strada della fuga e permise agli inquirenti di arrivare fino all'abitazione dei presunti fiancheggiatori. Qui, stando alle indagini, parte del gruppo di banditi avrebbe passato alla notte prima del colpo. Sarebbero arrivati con i vari mezzi e sarebbero ripartiti la mattina presto per andare a compiere l'assalto. Le accuse della procura di Pescara vanno dalla rapina fino al tentato omicidio. Grazie a tutti.